Tarzan, che cosa fai? Perché sono così diverso? Perché sei ricoperto di fango, per questo No, Kerchak dice che non appartengo alla... Dice che non appartengo alla famiglia Non badare a quello che dice No, ma... ma... guardami! Ti guardo Tarzan, e sai cosa vedo? Vedo due occhi come i miei E un naso da qualche parte Ah, eccolo Due orecchie Cos'altro? Due mani Proprio così Chiudi gli occhi Dimentica quello che vedi Che cosa senti? Il mio cuore Vieni qui Il tuo cuore Visto Siamo identici Oh, Kerchak non riesce a vederlo Glielo farò vedere io Sarò la migliore scimmia che c'è Ma ho f***i scommetto Che cosa senti? Grazie a tutti.